Invitiamo i giudici a prendere i loro posti, tra poco iniziamo con le finali e le semifinali della sesta giornata, campionato europeo Roma 2022. E noi siamo pronti per chiamare sul pianovasca la prima finale 200, farfalla, uomini! Finale 200 per fallo uomini, corsia 8 per l'Ucraina Lei number 8 rappresenting Ukraine, Denis Keshil Corsia 1, Estonia Lei number 1 rappresenting Estonia, Gregor Zirk Corsia 7, Polonia Lei number 7 rappresenting Poland, Krzysztof Kmieliewski Lei number 2 rappresenting Italy Corsia 2, Giacomo Camini, Italia Corsia 6, Bungheria Lei number 6 rappresenting Hungary, Richard Marton Corsia 3, vice campione del mondo di Mascagorta per la Svizzera Lei number 3 rappresenting Switzerland, Noe Bonti Corsia 5, è il campione del mondo di Mascagorta Corsia 5, è il campione del mondo di Mascagorta e canta per l'Italia Amorto, Corsia 3 Corsia 4, è il primatista del mondo, è il campione olimpico, è il campione del mondo per l'Ucchieria Corsia 4, è il campione del mondo di Mascagorta e canta per l'Ucchieria Corsia 4, è il campione del mondo di Mascagorta e canta per l'Ucchieria Milano, Cristo Finale, 200 farfalla uomini This is the final of the men's 200m butterfly Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.